spiro sono felice che tu sia qua ho appena saputo che c'era qualcosa di sospetto in questa fattoria le mucche spaziali sono dappertutto e ora un grosso ufo sta arrivando a rapire le mucche del contadino bill su questo ufo c'è il prototipo di un raggio trattore che potrai usare per trascinare le mucche e riportarle nel recinto e aspetta un momento com'è che il contadino john possiede un ufo il contadino bill ha bisogno del tuo aiuto cercherai di salvare le mucche con il prototipo di ufo grazie ancora spyro puoi tornare quando vuoi a prendere il prototipo di ufo per un giretto ho intenzione di rimanere qua fuori a guardare il cielo alla ricerca di mucche spaziali la verità è là fuori spyro